Migliaia di licenziamenti e famiglie senza asili nido e servizi di supporto per le fasce deboli della popolazione. A denunciare la situazione oramai insostenibile riguardante i servizi educativi per l'infanzia e l'adolescenza sono la Federazione Italiana Scuole Materne e Nidi, Puglia, Forum Terzo Settore, Lega Coop Sociali Puglia, Axemi Bari e Conf Cooperative Feder Solidarietà Puglia. 500 strutture di accoglienza per i minori nella fascia 0-17 anni, oltre 10.000 utenti, 5.000 dipendenti di cui il 95% donne. Questo è il quadro dei servizi all'infanzia e all'adolescenza della Regione Puglia. Dal mese di settembre non siamo in grado di fatturare perché l'accreditamento e tutto il sistema di buoni va per le lunghe. Chiediamo al nuovo assessore la possibilità di essere ascoltati per accelerare i processi. Nel giro di 15 giorni tutti questi dipendenti rischiano il posto di lavoro. Chiediamo un incontro urgente per risolvere questa annosa questione. Le strutture educative che stanno accogliendo i minori dallo scorso mese di settembre chiedono alla Regione Puglia il rispetto dei termini scaduti da mesi e il riconoscimento delle indennità alle strutture in sofferenza per poter pagare a stretto giro lo stipendio a migliaia di operatori. In difetto, dal prossimo febbraio le strutture saranno costrette a richiedere alle famiglie il pagamento dell'intera retta e ciò potrebbe verosimilmente comportare la rinuncia alla frequenza dei minori ad opera delle famiglie e la conseguente chiusura del servizio. Abbiamo un comparto in crisi, è quello che ha la presa in carico di minori e famiglie in una serie di centri di presenza sul quartiere, a Sidi Nido. Ebbene, il comparto non ce la fa più per questioni di ritardi burocratici. Finalmente abbiamo un interlocutore politico, Rosa Barone, neossessore al welfare, cui formuliamo i migliori auguri di buon lavoro. Però adesso dobbiamo interloquire in maniera efficace, nell'ottica della collaborazione come nella nostra tradizione, ma per risolvere problemi concreti. La snellezza delle procedure è vitale in questo momento, altrimenti avremo un sacco di persone a casa e la scopertura di servizi che noi consideriamo essenziali e che soprattutto percepiscono come essenziali lo stesso target di riferimento. Sono 30 i milioni di euro di fondi europei assegnati alle famiglie per l'anno educativo 2020-2021 per garantire un accesso a servizi estremamente costosi, ai quali dovranno essere aggiunti almeno altri 20 milioni.